Case, lavoro, servizi sociali nei quartieri popolari. È lo slogan che ha accompagnato il corteo indetto dai movimenti per il diritto dell'abitare a Palermo, partito da Piazza Verdi in direzione della Prefettura e a cui ha preso parte un centinaio di manifestanti. Il comitato di lotta Prendo Casa Palermo chiede il blocco immediato di sfratti e sgomberi e rimendica le occupazioni a scopo abitativo delle ultime settimane quale unica soluzione concreta all'emergenza. Le istituzioni ci ignorano e criminalizzano denunciazioni senza casa, che attendono la fissazione di un tavolo tecnico per veder garantito il diritto fondamentale a un'abitazione.